Un bando per il finanziamento di operatori del turismo in Sicilia l'ho aperto il progetto RestartMed che oggi celebra il World Tourism Day con un summit organizzato dalla CISP, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, alle officine baronali di Palermo. Il bando è destinato ai fornitori di prodotti turistici, sostenibili, tutte le zone dell'isola. Le aziende possono richiedere sovvenzioni per finanziare iniziative di visibilità delle proprie attività. Il valore dei finanziamenti è compreso tra i 5 e i 15 mila euro. La scadenza per le domande è fissata per il prossimo 14 ottobre. In Sicilia, tra aprile e agosto 2022, il progetto RestartMed ha realizzato tre sessioni di formazione, progettate specificamente per gli operatori turistici siciliani, organizzate dal capofila del progetto, il CISP, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. 40 operatori del turismo privato, provenienti specialmente dalla zona della via Selinuntina, sono stati formati su temi che loro stessi avevano indicato come prioritari per le loro attività commerciali, tra questi marketing e social media marketing e commercio online attraverso agenzie turistiche e siti di prenotazione. Le formazioni sono state adattate al contesto del settore turistico siciliano, caratterizzato da un'ampia offerta di opportunità formative già esistenti e operatori per lo più di piccola scala a conduzione familiare. Agli operatori è stato offerto un supporto concreto per il social media marketing e il posizionamento commerciale delle aziende, adattando anche i prodotti turistici e mercati di riferimento, nonché il follow-up e il tutoraggio, inclusa la visita della formatrice alle strutture della via Selinuntina. Alte sessioni di formazione sono previste per i prossimi mesi.